Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui perché tanti di voi mi hanno chiesto ma Gianluca come si preparano i colori per la fluid painting? Beh oggi andremo a togliere questo dubbio. Allora partiamo dal presupposto che secondo la mia opinione non c'è una ricetta perfetta per preparare i colori per la fluid painting nel senso che andando avanti con il tempo con la pratica si scoprirà appunto la ricetta che secondo te è giusta. Capirai da solo o da sola la consistenza che il colore deve avere quando lo vai a colare ma in linea di massima oggi vi darò una ricetta generale per avere un colore comunque valido da poter versare sulla tela o su qualsiasi supporto vogliate utilizzare e appunto che abbia una buona resa. Vi siete iscritti al canale? Avete lasciato un like? Un commento? Bene allora possiamo iniziare. Andiamo a vedere gli ingredienti per creare i nostri colori. Io partirei dal primo, uno dei più importanti, sono tutti importanti in realtà, però questo è imprescindibile ovvero il medium. Il medium potrei aprire un capitolo enorme sul medium, ok? Questo qua. Io lo comprai su Amazon, si trova tuttora, costa all'incirca dalle 20 alle 30 euro, dipende, un litro. Poi potete trovare anche delle promozioni in realtà in cui magari vendono non so, tre confezioni da un litro a 60 euro per dire invece che 70. In ogni caso il prezzo è variabile su questa linea. Quindi il medium è assolutamente fondamentale e andiamo un po' a vedere che cos'è questo medium. Allora che cos'è il medium? Il medium è un additivo che va aggiunto al colore e questo permetterà appunto al colore stesso di diventare fluido. Ci aiuta tantissimo, appunto è imprescindibile nella fluid art, perché ci permette di colarlo nella tela. Mi hanno chiesto su Instagram, ma Gianluca, ma se diluisco il colore acrilico con l'acqua lo posso fare? Assolutamente no! Solo acqua non si può fare, perché? Perché andrebbe a diluire i pigmenti del colore e quindi renderli più trasparenti, diciamo così, più sbiaditi, ok? Quindi acqua e basta, assolutamente no per la fluid painting intendo. Ok, dopo il medium ci servirà anche la colla vinilica. Allora, la colla vinilica perché? La colla vinilica non è obbligatoria per quanto riguarda la fluid painting, ma sicuramente aiuta e va ad abbattere i costi del colore. Perché? Perché noi potremmo creare il colore anche solo con il medium, che però abbiamo visto prima che ha costi abbastanza grandi. Invece con la colla vinilica andremo a togliere una parte di medium e a sostituirla proprio con lei. Questo ci aiuterà ad abbattere i costi, perché la colla vinilica comunque non è che costa tantissimo. Un ultimo e fondamentale ingrediente, chiaramente, è il nostro colore. Questo è l'arancione, quindi oggi andremo a fare l'arancione. Io uso questa marca qua, che è la I Love Art, l'ho trovata su internet e mi ci trovo bene. È un colore, secondo me, buono, perché anche economico. Ultimo ingrediente per la nostra preparazione del colore è acqua. Una semplicissima acqua di rubinetto va benissimo. Serve appunto per aiutarci a fluidificare il colore. Andiamo a vedere le proporzioni ora. Ovviamente un'altra cosa per creare il colore è il recipiente. In questo caso io ho preso un bicchiere, ok? Un bicchiere di plastica, ma potete anche usare barattoli. Se avete barattoli di vetro, per esempio, con il coperchio, sono perfetti. Allora, quindi bicchiere di plastica e per ultimo una spatolina o un cucchiaino. Questo è il legno, così lo lavo sotto l'acqua corrente una volta finito e lo posso riutilizzare. Quindi questo è tutto l'occorrente che ci serve per creare il nostro colore liquido per la fluid painting. Quindi medium, colla vinilica, colore, vasetto o comunque contenitore per creare il colore con legnetto o comunque cucchiaglino per mescolarlo e acqua. Spostiamoci sul piano da lavoro, che sarebbe questo. Cambiamo inquadratura e facciamo subito il colore insieme. Allora, ho già preso la mia bilancina, che andiamo ad accendere. La bilancina perché faremo rapporto uno a uno. Quindi ci serve assolutamente la bilancina. Questa, come vi ho detto, è una ricetta, diciamo un po' generica. Così che potete iniziare a giocare con i colori. Ma man mano che farete pratica, ovviamente ci sarà sempre più dimestichezza. Iniziamo con mettere il colore, ok? Il colore all'interno del bicchiere. Quindi alzeriamo la bilancia. Andiamo a inserire il colore scelto. Ok, 6 grammi di colore ho messo, ok? Quindi 6 grammi. A questo punto, dopo aver messo 6 grammi di colore, a zero la bilancia e è l'ora del nostro medium. Quindi la cosa importante del medium è di agitarlo bene prima dell'uso. Ok. A questo punto, se abbiamo messo 6 grammi di colore, andremo ad aggiungere 6 grammi di medium. Facile, facile, eh? 5 e 6. Perfetto. Di nuovo andiamo ad aggerare la bilancia e è l'ora della nostra colla vinilica. Quindi andiamo ad inserire anche di questa 6 grammi. 5 e 6. Andiamo ad aggerare la bilancia e ultimo ingrediente, la nostra acqua. Andiamo a inserire 6 grammi anche di acqua. 5 e 6. Perfetto. A questo punto non ci serve altro che il nostro, il nostro cucchiaillino oppure la nostra paletta, dipende quello che avete, e andiamo a girare il nostro colore. Questa è una parte sicuramente fondamentale. Dovete girare bene il colore perché, vedete, sotto avremo la parte di medium con la vinilica sopra il colore. Insomma, non è omogeneo e noi invece lo vogliamo assolutamente omogeneo. Quindi giriamo per qualche minuto fino a che il colore sia completamente omogeneo. Perfetto. Dopo 5 minuti di mescolanza il colore sarà di questa consistenza, ovvero la consistenza perfetta. Deve creare questo filo senza staccarsi mai. Un po' come il miele per intenderci, ok? Se ha questa consistenza è perfetto. Quindi il colore è pronto. Dovrete fare questo procedimento per ogni colore che vorrete creare. In questo caso abbiamo messo 6 grammi di ogni cosa, ma ovviamente potete fare le dosi anche più grandi o più piccole. L'importante nel fare le dosi più grandi o più piccole è mantenere la stessa quantità tra colore, medium, acqua e colla vinilica. Quindi possiamo fare 10 grammi di ogni cosa, 20 grammi di ogni cosa, un grammo di ogni cosa e così via. È molto facile. Eccolo qua, il nostro colore, questo bello arancione pronto. Come vedete fa il filo senza spezzarsi mai ed è perfetto per essere colato. Una cosa molto carina da poter aggiungere al nostro colore è l'olio di silicone. Ora ve lo faccio vedere. Eccolo qua, questo è l'olio di silicone. Io uso questo qua, della Camon che ho trovato su Amazon. Basta qualche gocciolina all'interno del nostro colore, quindi direi 2-3 gocce all'interno del colore. E poi mescoleremo. Mescoleremo pochissimo. Quindi il colore deve essere già pronto prima di aggiungere l'olio di silicone, che deve essere l'ultima cosa aggiunta. Una volta versate le goccioline di olio di silicone all'interno, giriamo pochissimo. Tipo 2-3 giri. Fine. Il colore è pronto per essere versato. Questo aiuterà sicuramente la creazione delle celle. Io e il mio arancione abbiamo terminato il video per mantenere il colore, perché io in questo momento non lo andrò ad usare, perché non mi serve, non vado a fare un dipinto. Ma lo userò nel prossimo quadro, che vedrete prossima settimana molto probabilmente. e quindi in questo caso il colore non mi serve. Cosa faccio? Vado innanzitutto a non sprecare nulla, quindi vado a pulire il cucchiaio nel bicchiere. Ok, una volta fatto ciò, basta coprire il bicchiere con all'interno il nostro colore con della semplice pellicola da cucina. Quindi andiamo a chiuderlo bene e il colore rimarrà così per all'incirca 5 giorni, una settimana. Dopodiché inizierà a solidificarsi un pochino, ma basterà poi aggiungere un pochino di acqua o un pochino di medium e mescolare per riavere la consistenza adatta. Quindi per oggi è tutto. Io e il mio colore vi salutiamo. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di seguirmi su Instagram. Mi lasciare like, commento, condividerlo con gli amici e guardare più video possibili e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione e buona arte. Ah, dimenticavo. Ovviamente tutto quello che vi ha detto i miei canali social eccetera eccetera li trovate qui sotto nella descrizione del video. Inoltre vi lascio il link per quanto riguarda il Floetroll da trovare su Amazon così che vi possa aiutare. È passata qualche ora da quando ho fatto il video lo sto editando e mi sono scordato di dirvi ancora che ho iniziato a vendere i miei quadri su Wallapop. Questa applicazione ma è disponibile anche semplicemente online. Basta scrivere Wallapop su Google. Io mi chiamo Gianluca Ponziani e ho caricato già tre quadri ma comunque è in aggiornamento. Quindi qualora volesse sostenermi oltre a seguirmi sui social qui su YouTube eccetera potete anche acquistare un quadro qualora vi facesse piacere. Grazie.